Grazie a tutti. Lo scenario più probabile, come io leggo la situazione in questo momento, è sostanzialmente un adattamento del legalicum, cosiddetto, cioè il consultellum camera, a fini di una omogeneità tra i due rami del Parlamento, su tre punti. In particolare l'introduzione del premio di maggioranza al Senato, una soglia tra il 4 e il 5%, quindi uniformità di soglia, tra i due rami sale un po' alla Camera e scende al Senato, una doppia preferenza di genere, sulla quale sembra ci sia consenso. Quindi sostanzialmente verso il modello Camera, che come vedete è del tutto antitetico rispetto alle cose che sono state dette fin qui. Questo viene dalla debolezza della sentenza della Corte Costituzionale, la 35 del 2017. Micone diceva stamattina che i costituzionalisti non hanno criticato abbastanza, beh l'abbiamo fatto Gian Giacomo per la verità, i pochi di noi diciamo che sono orientati in questo senso. Per la verità forse alla Corte ci si doveva aspettare che non alzasse agili insuperabili, già dalla sentenza 1 del 2014, perché da questo punto di vista c'è una sostanziale continuità. Per esempio noi ci lamentiamo che non ha dichiarato la incostituzionalità del voto bloccato sui capilista come tale, ma se l'avesse fatto avrebbe dovuto in realtà dichiarare la incostituzionalità in principio di un voto bloccato. E questo avrebbe comportato retroattivamente la incostituzionalità del mattarellum che aveva i listini bloccati, avrebbe comportato la impossibilità di adottare il modello tedesco che ha delle liste parzialmente bloccate. Quindi una cosa che andava probabilmente al di là di quello che si poteva pensare. Nella sentenza 1 del 2014 aveva dichiarato il costituzionalità del porcellum per quanto riguarda il premio di maggioranza, ma perché non c'era la soglia. Qui invece la soglia c'era e quindi diventa un problema di dove si colloca la soglia. Il 40, il 38, il 42, chi sceglie, chi decide. Quindi la sentenza della Corte è debole, ma forse non poteva essere poi tanto più forte. Questo per spiegare perché poi non si può semplicemente dire alla Corte siete dei restofanti, perché non è così. Non è onestamente così. Questa è una battaglia politica che non si può scaricare tutta sulle spalle della Corte Costituzionale. Poi dire che è una sentenza debole, che poteva trovare argomenti più sofisticati, come io stesso ho proposto nell'audizione alla Camera, questo sì. Scusami, non dei restofanti, ma una mancanza di chi, una chiara distinzione della sentenza tra quello che è ritenuto incostituzionale e quello che appartiene alla creatività politica. No, questo la Corte lo dice, che poi non ci piace che appartenga alla creatività politica quello che interessa a noi è un altro problema. Vabbè, ma appunto questo fa parte dell'opinabile. Comunque io penso che la critica l'abbiamo fatta e abbiamo soprattutto chiarito, io l'ho scritto in chiaro in particolare, che la Corte con la sua sentenza ha lasciato nel sistema politico istituzionale un veleno che avrebbe fatto strada. Questo l'ho scritto il giorno dopo la sentenza. Perché? Perché ha attivato un gioco di convenienze, come è evidente. Nel momento stesso in cui ha lasciato il premio di maggioranza alla soglia e i capilista bloccati, ha attivato un gioco di convenienze tra le forze politiche. Però questo ci deve far capire che l'argomento della costituzionalità oggi non è un argomento purtroppo decisivo. Perché? Perché la costituzione alla fine non è quella che dice il professor Rone, ma è quella che dice la Corte. E quindi tutto questo che abbiamo davanti si affronta con la battaglia politica. Deve essere chiaro questo punto. Perché se al di fuori di questo si fanno dei meravigliosi dibattiti accademici, quando volete ne facciamo uno, però non si arriva lontano. Questo bisogna dirlo perché l'imputazione di responsabilità vada poi nel posto dove deve essere giustamente collocata. Guardate che non è che in prospettiva andrà meglio, perché si deve leggere un giudice alla Corte, come sapete, ma il prossimo giudice non sarà sicuramente un giudice di sinistra. Perché i giudici di sinistra alla Corte non ci arrivano più. Vorrei che fosse chiaro anche questo punto. Quindi non è che noi possiamo sperare che ci sia una maggiore sensibilità nella Corte di domani, perché la Corte cammina con le gambe dei giudici che ci sono. Quindi facciamo tutte le battaglie. Spendiamo l'argomento della costituzionalità, ma rendiamoci anche conto di qual è la vera incisività poi di quello che diciamo. Quindi battaglia politica, quindi il gioco degli interessi è quello che veramente decide. Allora che cosa troviamo? Anzitutto la proposta di Di Maio è al 35%. Vedete, secondo me indica che il Movimento 5 Stelle sta capendo che senza coalizione al 40% non ci arriva. E quindi la proposta di Di Maio, io non la vedo come un'alzata di ingegno estemporanea, no, io non credo affatto che questa cosa sia successa per caso. Io penso che sia un preciso messaggio che può interessare ovviamente sia al PD che a Forza Italia, perché tutti questi soggetti che sono i soggetti dominanti in Parlamento, al 40% non ci arrivano. Al 35% possono pensare di arrivarci. Quindi questa proposta, io credo, non può essere messa da parte con leggerizza. Soprattutto nella versione di Renzi, che poi non a caso dice coalizione no, personalità sì. Vedete, perché Renzi fa questa proposta? Perché questa è la proposta che fa terra bruciata a sinistra. Alla sua sinistra l'interesse primario di Renzi è non avere nessuno, perché così farà il pieno il PD. Avendo le personalità, lui drena forse sulla sua sinistra, la proposta a pisavia non è mica casuale, perché così lui svuota la possibilità di un competitor reale, diciamo, sulla sua sinistra. Naturalmente dovete capire che la proposta della no coalizione personalità singole si trascina anche il mantenimento dei capilista bloccati. Perché io se voglio fare un invito credibile, non posso dire vieni, mettiti in lista. Devo dire vieni, io ti do il posto in Parlamento. A pisavia, se Renzi gli propone di mettersi in lista, può venire il dubbio che lo faccia per spezzargli le gambe, perché poi chi lo vota a pisavia? Una parte dei suoi non lo vota più, e quelli di PD non lo votano neanche per nulla. Ne esce distrutto. Se gli dice ti metto capolista e ti garantisco il posto, è un'altra cosa. E quindi vedete come la proposta di Renzi si tiene. Abbassamento delle soglie, no coalizione, personalità singole. C'è poi, scusate ma io sto perdendo la voce da ieri, spero che mi duri fino in fondo. Qualcuno può essere contento che la perdo prima, ma insomma non me lo dica. C'è poi uno strumento di inerzia. C'è anche uno scenario di inerzia. C'è un scenario in cui non si fa la legge elettorale. Barate, questo non è uno scenario a costo zero, perché significa che almeno al Senato, il non fare, probabilmente spiana completamente la sinistra che c'è fuori del PD. Perché con le soglie che ci sono al Senato, barate, 3%, 8%, 20%, se non cambiano le cose a sinistra, non entra nessuno. Vi è chiaro questo punto? Quindi anche lo scenario del non fare è in campo. E infatti non a caso si parla della possibilità di non fare. Non è mica casuale. Perché ovviamente al Senato i seggi che non vanno a quelli che non entrano, che prendono i voti ma non entrano, sono redistribuiti fra quelli che entrano. Entrerebbero solo quattro soggetti. PD, Movimento 5 Stelle, centrodestra, forse una sinistra se riuscisse a mettersi insieme, se no non entra nessuna sinistra. Quindi lo scenario c'è. È chiaro che tutto questo finisce con cancellare completamente il voto referendario, ma la prospettiva della cancellazione del voto referendario è stata grandemente rafforzata dalla vittoria di Renzi alla primaria. Non assumete come un dato estrinseco questo della vittoria di Renzi nelle primarie, perché io credo che invece sia un elemento strutturalmente decisivo in questa fase del confronto politico istituzionale. Si dice, ma Mattarella a questo punto potrebbe, tanto è vero che ha parlato, le ultime parole di Mattarella sono state apparentemente più forti. Ed è stato fatto circolare anche questo sussurro che ci potrebbe essere un messaggio da parte, un messaggio formale alle Camere da parte del Capo dello Stato, come se poi le forze politiche considerassero questo chissà quale minaccia. Ma forse Mattarella lo pensa. Vedete, ma Mattarella che può fare? Supponiamo che non si faccia nulla e che rimangano quindi le prospettive di cui si parla di diverse maggioranze tra Camere e Senato. Molto possibili, forse addirittura probabili. Mattarella che fa? L'arma atomica che tiene in mano non è tanto il messaggio quanto il rifiuto di promulgazione, perché quella potrebbe essere una manifesta in costituzionalità, potrebbe essere considerata tale. però se il Parlamento li approvasse dovrebbe promulgare, secondo quella che è la generale e il generale orientamento dei costituzionalisti. Se il Parlamento non facesse nulla e rimanesse la diversità di leggi che c'è, facciamo ipotesi, arriva una legge Mattarella che lascia la diversità in qualche modo, che si fa? Mattarella rimanda, non promulga, il Parlamento non fa nulla, che cosa succede? Che la legge non passa e che si vota con quello che c'è. E quindi viene totalmente sterilizzato il capo dello Stato. Quindi il fatto che Mattarella non sia d'accordo con quello che accade, non dico che lascia il tempo che trova, ma è una pressione, una moral situation, quella come normalmente si definisce, una pressione che non va oltre la sollecitazione, perché strumenti Mattarella in mano non ne ha. Quindi questa decisione sta in mano alle forze politiche, la responsabilità è delle forze politiche parlamentari. questo deve essere molto chiaro. Ora, in tutto questo, su che cosa noi possiamo fare conto? Possiamo fare conto solo sulla sinistra fuori del PD, sostanzialmente, cioè, meglio, solo sulle forze politiche fuori del PD che condividono i nostri orientamenti, non solo di sinistra, potrebbero anche, ci sono anzi, di fatto, anche presenza politica non di sinistra. Nessun conto possiamo fare sui gruppi parlamentari del PD che oggi sono, semmai è possibile, più subalterni di quelli che erano ieri, di quello che era la situazione ieri. Cioè, dopo le primarie, che ci sia un sussulto di autonomia dei gruppi parlamentari del PD è fantascienza, come è facile pensare. Ed è chiaro, io vorrei questo dirlo ai nostri interlocutori, diciamo, primari e reali, che non è una questione di astratta costituzionalità e non è una questione di preferenza generale di sistema per un proporzionale perché è più bello, perché funziona meglio, perché ci consente di respirare e così via. No, io vorrei che fosse chiaro, è una questione della loro sopravvivenza politica, personale e collettiva. Cioè, chi ha il cappio al collo in questo momento sono proprio queste forze politiche di cui parliamo, le forze politiche minori in Parlamento. Sono loro che rischiano di morire adesso, non chissà quando, ora. E quindi, per questi punti che ho detto, che sono il premio di maggioranza, le soglie a 4-5%, già questo sarebbe probabilmente devastante per una buona, rebus, se non capita nulla, se non cambia nulla, se non nasce qualcosa di nuovo, già buona parte della sinistra fuori del PD che c'è, scompare senza colpo ferire. il no alle coalizioni sono tutti punti che mirano la stessa inerzia, come dicevo, perlomeno per il Senato, sono tutti punti che mirano direttamente al cuore delle forze politiche minori. quindi questo deve essere chiaro, quindi non è che noi stiamo chissà che cosa chiedendo, noi stiamo sollecitando perché ci crediamo per il paese, perché ci crediamo per l'istituzione, per il sistema politico, ma soprattutto perché diciamo a loro o così o siete morti. Io non so se di questo c'è consapevolezza o no, perché spesso in politica si lascia fare, il tempo passa, ma qui bisogna capire che o si fa una battaglia da subito frontale su questi punti ed è una battaglia che coincide nelle domande, diciamo, nelle richieste con quello che noi proponiamo oppure la prospettiva non è affatto buona. Che cosa possiamo fare noi? Noi ho sentito tante proposte, tante richieste stamattina e apprezzo tantissimo il lavoro e gli sforzi fatti dagli amici e dai compagni sul territorio, ma noi dobbiamo però essere consapevoli delle nostre forze e delle nostre possibilità, dobbiamo essere consapevoli di quello che non siamo e dobbiamo essere consapevoli di chi ha oggi la responsabilità, il peso e la necessità vitale di decidere semmai se possiamo fare qualcosa di utile e cercare ogni volta di dirlo, di spiegarlo, di farlo capire. Vi ringrazio. grazie a tutti. grazie a tutti. grazie a tutti. Grazie a tutti.